Collisione nel mare del nord, a largo del Belgio. Un cargo olandese si è scontrato con una nave gasiera delle isole Marshall. Il cargo è affondato e dai suoi serbatoi è fuoriuscita una chiazza di gasolio. Le autorità hanno messo sotto controllo le spiagge della zona. Tutti i marinai sono stati tratti in salvo, feriti il comandante e il primo ufficiale.